Oh eccoci qua ragazzi bentornati, bentornati sul canale del signor Shady, finalmente ritorna anche il Road to Glory, finalmente, finalmente è tornato e Konami ci fa anche il regalino per questo ritorno signori, ci fa un bel regalo, ben 300 monete i football con il playstation plus member bonus che andrà da agosto a settembre, ricordo che questa è un'esclusiva playstation quindi solo gli abbonati al playstation plus potranno riscattarlo e appunto questo pacchetto contiene queste 300 monete i football e in più 23 gettoni da 4000 esperienza ciascuno, 4000 punti esperienza quindi tanta tanta roba, vi invito assolutamente ad andare nello store e a riscattarlo, mi raccomando andrà da agosto a settembre, quello che vi consiglio io è chiaro ragazzi, è chiaro, siccome va da agosto a settembre magari non giocherete neanche così tanto e le carte che sono uscite aspettiamo dai aspettiamo, non spendete queste 300 monete, mi raccomando se no vengo là e vi bastono signori eh, vengo là e vi bastono vi ricordo di guardare il link in descrizione e di attivare le notifiche del canale perché arrivano tante belle cose ragazzi, tante belle cose, mi raccomando fatelo e anche perché i leak arrivano sempre sul canale telegram, in più c'è la piattaforma viola, ci saranno delle live apposite dove andremo a recensire dei giocatori quindi mi raccomando passate anche nella piattaforma viola, trovate tutto nei link in descrizione allora, andiamoci a fare una partita, a questo punto facciamoci le divisioni online e vediamo un po' come va, vediamo un po', è da un po' che non gioco eh perché è estate, fa caldo, sto facendo le vongole nelle mutande, lasciamo perdere, andiamo in campo eccoci, siamo arrivati allo stadio, siamo arrivati allo stadio signori informazione avversario, lui gioca con Uland, Pepe sulla destra ma, salà difensore centrale, ehm, Lukaku Mediano ok, ok, tutto a posto, tutto a posto, facciamo finta di niente psicologicamente credo che il football faccia male al genere umano e mi scusi, siamo pronti, siamo pronti mi raccomando, Darbo gioca eh ragazzi, Darbo gioca un giocatore infinito giocatore sontuoso, è prima Darbo e c'è anche Francesco Totti come al solito avete visto il video come prendere Francesco Totti anzi no, non è Francesco, però è sempre un Totti signori è sempre un Totti Totti uh, il tiro di Totti, subito pericoloso al venticinquesimo in realtà, altro che subito per ora non è successo molto attenzione il velo di Totti, il velo di Totti qua c'è Pedri che sta per fare una cavolata vai Fran, eh sì, è Francesco, ancora che stavo dicendo Francesco attenzione Totti ma l'azione è incredibile, Totti si gira troppo lento che casino oh, le mortacci, sua Dani Alves Dani Alves, attenzione, Pepe che gioca non lo so, esterno destro praticamente, mette anche una bella palla e noi possiamo ripartire in contropiede vai Sieresiete vai Sieresiete no, ma che ha fatto Romario mi sono sbagliato tasto scusi corra, corra, corra corra ah, vedi che chiusura di Lukaku in difesa però ha sbagliato ecco, non si capisce niente ok, c'è un fallo quindi punizione e da là c'è Totti c'è il piedino magico di Totti no, 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 no Robertino noi abbiamo noi abbiamo Totti noi abbiamo Totti, eh vai Fran Totti, er palo er palo dei Totti mannaggia la miseria peccato, peccato ancora Totti mazza che stop brutto però no, ragazzi non ci credo non ci credo stavo, sto troppo cazzeggiando e qua mi ha segnato Danny Alves tra l'altro ha fatto anche un cross Pepe da esterno destro sta giocando con Lukaku difensore centrale io non posso non posso prendermi una sconfitta in questo modo adesso devo entrare in focus concentrarmi portarla a casa perché se no qua finisce male mi tocca spacca tutto vai Ronaldo se è magnato se è magnato però stiamo stiamo giocando molto meglio dai andiamo a riprendere questa partita vai Romarietto il gol di Romarietto 1-1 Romolo Romarietto grande grande la potenza della freccia nera Romario oh che culo Romarietto grande parata del portiere avversario credo che sia Buffon non ho visto non mi ricordo bene ora calcio d'angolo lo battiamo così alla cavolo alla cavolo alla penne decane attenzione parapiglia nessuno vuole prendere il pallone perché scotta adesso è una sicurezza tra i piedi di Darbo avete visto una sicurezza tra i piedi di Darbo il giocatore infinito però qua recuperiamo recuperiamo eh facciamo pure una bella figura di cacca Pedri che se è magnato Pedrito ragazzi Lukaku e Salah migliori difensori del gioco comunque posizionamento da panico veramente da panico che bravo Salah che bravo vediamo qui se riusciamo a combinare qualcosa e niente niente da fare ancora sull'1-1 partita dominata da noi ovviamente ovviamente eh 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 cioè guardate Lukaku guardate Lukaku che recupera tutti questi palloni ma com'è possibile che ha zero di stats difensive guardate il posizionamento senza senso Lukaku dai Romario eh no eh sì e dai ha fatto apposta ragazzi era tutto calcolato lui è un geometra il geometra Romario 2 a 1 2 a 1 gioca con la sponda il geometra ormai abbiamo cambiato questo è il suo soprannome è geometra geometra Romario suona pure bene eh sembrerebbe uno che viene a casa ha fatto i lavori è arrivato il geometra Romario mi scusi ok è finita qua ragazzi 2 a 1 abbiamo vinto e niente io purtroppo devo staccare già qui con il video ma domani ritorneremo con un rotuglory sempre completo quindi da due partite e niente io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima ragazzi vi voglio bene ciao ciao ciao